volete vedere il backstage della mia postazione sto facendo un video che vi caricherò subito dopo questo vediamo se vi interessano anche questi video piccoli più corti nel quale vi faccio magari una piccola preview e poi vi carico il video completo allora nella nella live nella diretta live che vi ho lasciato avete visto fare questi tre queste tre tip questa realtà l'abbiamo modificata invece nel video successivo quindi guardatelo se vi interessa queste due tip le ho ritrovata adesso ve le ho citate nel video live e ve le faccio vedere meglio nel video successivo comunque vi faccio vedere un po di backstage questa è la mia nuova postazione questa è la posizione dove metto il telefono in questo momento questa è la lampada di cui vi parlavo quella cerchio ancora la plastichina perché la sto attestando stanno trascorrendo i 30 giorni dalla consegna infatti tra pochi giorni da levo perché sono trascorsi quindi posiziono una lampada da questo lato l'altra lampada è su questo lato vedete anche me riflessa bene questa è l'altra lampada che mi fa luce qui dice una luce a contrasto quella tonda che vedete qui e l'altra che vedete qui poi c'è la luce della finestra ma la finestra avete già visto nel video ikea che vi lascio sempre nella i e questo è il backstage ancora c'è un po di caos qui o la lampada qui o alcune cosine c'è ancora un po di caos perché devo sistemare quelli sono spacchettamenti che abbiamo fatto insieme nella live appunto quindi il telefono verrà posizionato qui sopra per inquadrarvi esattamente quello che ci interessa questo è un po il backstage questo è un cassetto che ho questo è l'altro pacchetto scartato scusate ho un cassetto che ho davanti alla scrivania poi vi parlerò di questa scrivania perché non sono molto soddisfatta e ma questo ve lo dirà meglio quando farò il video postazione quindi questa era semplicemente un'anteprima vedrete queste unghie come le faremo insieme nel video successivo questo è semplicemente un'anteprima se volete potete iscrivervi al mio canale come sempre vi dico e attivare la campanella ditemi se vi piacciono questi tipo di video in cui vi avverto appunto di un nuovo caricamento vi lascio come sempre tutte le informazioni qui sopra sulla i e sotto nel box informazioni se volete potete lasciarmi un pollice e sostenermi un pochino quindi un pollice in su altrimenti se mi mandate un pollice in giù ditemi sotto nei commenti che cosa ho sbagliato e dove posso sempre migliorare niente vi lascio quindi tutti i video di riferimento qui sotto e alcuni link utili sulle playlist su altri miei hobby perché questo canale ha molti hobby e quindi vi lascio anche tutti quei link scrivetemi anche le richieste se volete richiedermi qualche video in specifico in specifico mi preparo per il video vi lascio un bacione da alessia lux ciao ditemi se vi piace questa nuova location perché completamente nuova come potete ben vedere se vi piace la nuova inquadratura insomma ditemi quello che pensate di questo video e così io saprò se modificare oppure no aggiustare alcune cose che per voi non vanno bene inquadratura l'illuminazione ditemi tutto quello che volete ciao ciao ciao